Ciao a tutti, con l'impotenza il corpo dice i no che tu non sai dire. Prima di affrontare il tema però ti ricordo, ti ricordo l'appuntamento online con il mio seminario, seminario online, che si terrà martedì 31 marzo ore 20.30-23 e si può prenotarsi tramite abbonamento al canale YouTube Felicità Benessere a zona abbonati seminari online, ti abboni e poi anche se poi per caso quel giorno lì tu non potessi vederlo, il seminario resterà ancora un mese sulla piattaforma per cui avrai tutto il tempo per vedertelo, però è interessante poi vederlo online perché poi si può interagire. Quindi vatti a prenotare, ti ricordo anche che sul canale Massimo Taramasco ci sono diversi tipi di abbonamento, invece questo seminario online sul canale Felicità Benessere, mentre sul canale Massimo Taramasco ci sono diversi tipi di abbonamento che riguardano sia lezioni mirate, sia lezioni mirate più videoregistrazioni di seminari che verranno caricate gradualmente, anche l'abbonamento Master Consulting che in più ha anche un, diciamo, anche una consulenza telefonica e veniamo al, e veniamo nuovamente al tipo di tema legato all'impotenza maschile ma talvolta anche alla frigidità femminile, diciamo così che le cause, al di là delle cause fisiologiche, fisiche, eccetera spesso è un messaggio che il tuo corpo ti manda cioè il tuo corpo dice no a situazioni in cui tu per mille motivi dici sì magari, che ne so, una persona con la quale senti che non te ne frega nulla che non c'è interesse, che non te ne può fottere di meno che non ti piace neanche tanto però, sei preso, diciamo così, da maschio, diciamo così sei preso, come dire, magari dall'ormone per cui, ma sì, dai beh, può succedere che il tuo corpo si rifiuti, insomma, di fare qualcosa a cui tu avresti già dovuto dire no oppure, per una motivazione non fisica ma per una motivazione che ritieni che non sia la persona giusta per te lo ritieni la tua parte emotiva, ovviamente non la parte logica, perché è la parte emotiva che gestisce diciamo, l'erezione in questo caso o la mancata erezione per cui, spesso, spesso, proprio la motivazione è questa quindi, se ti capita un episodio o due o quello che è magari con la stessa persona chiediti perché perché probabilmente in questa persona qua c'è qualcosa che non va che non va per te, intendo quindi, l'impotenza di solito rappresenta il no che il tuo corpo dice e che tu non riesci a dire quindi è una parte più intelligente di te perché la nostra parte emotiva ha comunque una ha comunque un'intelligenza la parte emotiva ha un'intelligenza non è una parte stupida è una parte intelligente e quindi si manifesta in questo modo quindi ti renditi conto che non è un fattore, diciamo, legato a chissà cosa è proprio un fattore legato al, diciamo alla tua al fatto che quella persona lì non va bene per te e quindi il tuo corpo che è più furbo di te come dire prende il comando della situazione e dice no lì dove tu non sei riuscito a dirlo bene, per questo video è tutto ti ricordo l'appuntamento il seminario online in tempi di coronavirus quelli offline non si possono fare seminario online su seduzione e amore martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23 e è facile partecipare basta abbonarsi al canale YouTube Felicità e Benessere nella sezione abbonamenti seminari online ti abboni e poi puoi partecipare ciao a tutti